Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellots, siamo qui in Total War Warhammer 2, Imperi Immortali con il nostro Quick Mozza Teste e il Clan Mors Quick o Quack? Penso sia Quick però, forse Quack, non lo so, ditemelo voi Abbiamo scelto di utilizzare il Clan Mors perché in Imperi Immortali è quello che ha più interazione con tutte le altre unità Infatti si trova diciamo attaccato al Vecchio Mondo che comunque è la porzione più grande di Mappa mentre il Nuovo Mondo è piccolo e striminzito Per questo motivo abbiamo iniziato con lui e tra l'altro noi siamo una delle tre nazioni che ha l'obiettivo di conquistare Karak dei Ottopicchi Infatti noi siamo proprio in guerra oltre che con i nostri vicini con i cretini ammutinati che sono questi qua che posseggono Karak dei Ottopicchi Quelli che devono conquistare Karak dei Ottopicchi sono quelli di Luna Gobba non ammutinati che dovrebbero stare tipo qua E i nanni che ci sono in questa zona, il clan non mi ricordo quale Anche perché sono comunque tutti i tizi che dovranno morire quindi non ci importa molto di loro Allora io direi di andare verso questa direzione Tanto lui al massimo può arrivare tipo qui Posso mettere i movimenti veloci però non si fa più con lo spazio, ora dovrò capire come Reclutiamo Mi sono mosso in superficie perché lui può muoversi anche sotto terra ma poi ovviamente non può reclutare Non può reclutare ovviamente in marcia forzata, penso posso fare le altre modalità ma per ora lasciamo perdere Allora noi non abbiamo neanche uno scaven lancere e gli scaven schiavi fanno davvero pietà Però questi qua sono unità che possiamo permetterci di perdere tra virgolette Quindi io andrei un pochino di più su questi qui Loro hanno anche la possibilità di fare danni penetranti Ovviamente all'inizio non ci saranno unità molto molto bardate Però io prenderei due di questi e un altro razzo del clan Perché loro potrebbero avere qualcosa a cavallo Perché ovviamente gli orchi possono cavalcare mentre noi no Quindi dobbiamo stare attenti a quello Per ora guadagniamo così Ho visto che le nostre strutture sono molto particolari Nel senso che tutte le strutture danno sempre la stessa quantità di introiti Tranne queste che magari danno un po' di più Queste danno 80 Queste qua danno 80 anche loro Queste qua militari danno 60 invece Queste qua militari avanzate danno 40 Quindi sono meno convenienti da costruire Però qua nella città principale abbiamo il quartiere generale del clan Morsk Che ci dà 300 Visto che c'è questa struttura direi che questa qua diventa molto importante Perché aumenta gli introsi derivanti degli edifici del 60% È tantissimo E è vero che aumenta la corruzione a scaven Però considerando il fatto che ci serve Cioè insomma abbiamo questa struttura E la cosa base per costruire sono i soldi Potrebbe essere già una buona scelta D'altra parte abbiamo questo Non possiamo andare a fare questo perché Non posso costruire questo edificio Prima di aver costruito i edifici necessari E questo qua non è già costruito Questo c'è già Non comprendo Questo ce l'ho già giusto? Assolutamente no Non ho niente Ho questo e basta ok Quindi dovrei fare questo per andare a quelli dopo Se no ho visto Che tutte le nostre tecnologie sono bloccate Quindi potremmo iniziare facendo uno di questi due edifici Allora questo qua è bloccato perché serve l'armeria del clan Questo qua invece è bloccato perché serve il covo degli assassini Quindi vediamo a che punto sono delle varie cose Posto del clan Caserma del clan Armaria del clan A cavolo Quindi non posso fare la tech fino a qui Mentre il covo nascosto Il covo segreto Il covo degli assassini qua Quindi serve di certo una città La capitale a livello 3 E queste due strutture sono fondamentali Assolutamente Ma potremmo far questo per aumentare un po' gli introiti Ora come ora posso reclutare solo quelli scarsi Fanteria con spada E ratti del clan lanceri Di sicuro questi non sono male E probabilmente dovremmo farli D'altra parte abbiamo i ratti notturni con le fionde E Spostati I ratti notturni che sono Anche loro però hanno portata Quindi anche questi qua Possono sparare Ma sono strutture che ci saranno sicuramente entrambe Anche solo per fare la tech E per reclutare l'assassino Magari farne nella stessa città non ha molto senso Però per ora ci sta Questo qua aumenta l'integrità E potrebbe essere utile Perché possiamo utilizzarla Per andare contro questa Quindi io direi Qua per andare qui ci serve Una struttura di livello 3 Sale in 11 turni Solo plus Non possiamo permetterci Di Ci possiamo guadagnare di più facendo questo Ma per 11 turni È troppo poco Quindi andrei a utilizzare queste Che comunque Sono le nostre unità base Perché possiamo già reclutare I ratti del clan Giusto? Che sono quelli che ho reclutato Tra l'altro Ma non i ratti del clan lancieri Esattamente Quindi forse questa è la struttura Più adatta da questo punto di vista No francamente preferisco Guardare da questa parte Che mi sembra fatto molto meglio Almeno abbiamo un'idea generale Sì allora Questi qua li possiamo già fare Scuto di carne E va bene Questo qua sono delle lance Decisamente migliori Per ora andrei a prenderci questo Che è la struttura base E difficilmente è una scelta sbagliata Bene non possiamo fare nient'altro Quindi direi che Passiamo il turno Ora Una cosa importante sarà capire Quanto dura il cambio turno Perché ci sono 117 fazioni 35 giocabili Anche se in realtà 35 Credo che sia il numero Di lord totali Molti lord hanno la stessa fazione E proprio stesso punto di partenza Eccetera Quindi Ok Allora intanto qua posso Mettere un attimo in pausa Ok La mia fazione Visuale Eroi Velocità Del lord Posso mettere anche Veloce Veloce Perché tanto nel senso Sono i miei Li vedo che si muovono Poi Questi qua sarebbero Fazioni Individuali Ah devo scegliere io Ok no Fazioni alleate no Fazioni nemiche Va bene così Fazioni alleate va bene Anche veloce Interessante questa cosa Fazioni neutrali Va bene veloce Per ora lasciamo così Poi magari mettiamo Velocissima O cose di questo tipo Velocità normale Avanti Avanti Veloce Ok Perfetto Penso che questo Tagli tutto Aiutimi sono i bug Perfetto Il tuo clan è la minaccia oscura Sempre in agguato Signore della guerra Siete maestri Dell'occultamento E dell'inganno E tutti gli ignari Stolti sulla superficie Verranno presto a conoscenza Del tuo clan È un consiglio prezioso Potremmo effettivamente Reclutare un altro lord Cosa che ovviamente Ci costerebbe E andare avanti Da lì Allora qua Avanziamo così possiamo fare I ratti del clan Con lo scudo E i ratti del clan lancieri Sono di certo unità Più forti Qua possiamo già attaccare questa Allora vediamo un po' Ha meno unità di noi Quindi direi proprio di provare Testare un attimo questo esercito Vediamo quanto è forte Così com'è Questo qua è perché L'ho reclutato io Può essere Noi abbiamo un cannone del warp Quindi vediamo Utilizzare quello Loro hanno unità di certo Più forti di noi C'è su ogni Contro qualsiasi nemico Noi abbiamo unità più scarse Questo penso che sia Abbastanza evidente Però Vediamo un po' cosa fare Secondo me possiamo già Attaccare subito Vai Quick Ah Allora Questo cos'è Minaccio sotterraneo Invece no Allora Minaccio sotterraneo Va bene Per 4 Numero 2 La posso utilizzare 4 volte Ma quanto costa in cibo Questo abbassa il cibo E ovviamente non è il caso Anche perché Questa battaglia Decisamente semplice Io la vorrei combattere Nel senso che Di certo è una battaglia Stupida E forse Subirò più vittime Combattendola io Che facendo la Resoluzione automatica Ma Insomma Sono curioso di vedere Come sono fatte Queste unità Sono curioso di utilizzare Quick E anche il cannone E poi vedere un attimo Effettivamente sul campo Quanto sono Forti Questi So che saranno Scarsissimi Ma voglio vederne un po' Molto bene Allora Noi siamo più forti Sì Facciamo che ci siano Meno aiuti Allora Opzioni Impostazioni di gioco Dove aiuti Consigli Minima Ok Nel senso Se mi dai cose Su Consigli su Come utilizzare Gli scaven Ok Consigli su come giocare Non mi servono Possiamo mettere Qualcuno in avanguardia Che sono questi Però da soli Però se li mettiamo davanti Iniziano a sparare Questi qua non dovrebbero avere Unità Interessanti Ok Già la scremaglia attiva Bene Perché di solito La metteva disattivata E voi avete già la guardia attiva No Però posso metterlo Nell'opzione di gioco Come fare questa cosa Questo dovresti essere In grado di colpire tutti Da questa posizione Bene E qua niente Facciamo una formazione Molto semplice Anzi Facciamola così Davanti voi Che subite la prima carica Voi dietro Perfetto E voi dovrete Correre A girare Noto con piacere Che anche l'unità Di livello Un pochino superiore Cioè ovviamente Queste sono le più forti Che abbiamo Sono 160 Anche loro Quindi vuol dire Che non è come nel caos Per esempio Che più andiamo avanti Più quelli forti Diventano di meno Ma rimangono comunque Un numero interessante Quel sasso del cacchio Che rompe gli zebedei Mettiamoci così Ok inizia la battaglia Spara Spara Anzi però tu Per ora mettiti qui Meno male ti ho detto Di parlare poco Vai spara Perché ti muovi Ah sono dietro La collina No Allora Stai fermo Tu inizia a sparare Su questi Anzi Spara su quelli dietro Vediamo un po' Come sono Sono dei topi Capitano ovvio Mancato in pieno Molto bene Ok prendiamo questi Mettiamoli tipo qui Caricate quelli Voi caricate questi Tu mettiti qua E spara da dietro Ok vediamo un po' Subito qui Che cosa può fare Già Già la stiamo andando in fuga Ok Spara qua Adesso queste qua Sono guarnigione Ma mi sembra che siamo A parte che questi Sono goblin Però mi sembra che siamo Davvero più forti Di loro A livello qualitativo A parte che anche gli orchi Hanno unità scarsissime Però Qua andate su questi Allora tu Prova a utilizzare questo Beh non è servito Perfetto Allora Minaccia sotterranea Cioè se non la uso Risparmio cibo Comunque Quando a livello 4 Che mi sembra essere Il livello base È gratuita Non lo sapremo mai Vittoria decisiva Termina la battaglia Molto bene Beh sono meno scarse Di quello che pensavo E soprattutto Sembra che Facciamo davvero paura Nel senso che Non ne abbiamo uccisi tanti Ma sono scappati subito È vero che loro Erano una guarnigione Senza generale E tutto il resto E i goblin Non hanno molta Fiducia Però Qua gli orchi bruti Adesso non mi ricordo Il nome giusto Ma sono quelli No forse sono ragazzi questi Però non dovrebbero avere Una disciplina scarsa Quanto Ce l'hanno i goblin E se non è stato Il primo a scappare È stato proprio lui È vero che gli hanno Andato addosso quick Però È andata bene La cosa bella Che esce direttamente Anche qua Il numero di morti 108 Questa macchina D'assedio Fantastico Allora Cosa possiamo fare Come avete detto Che il cibo Si può utilizzare Per creare più eserciti Qua siamo più 11 Forse perché Appunto Abbiamo conquistato Per i prigionieri Quindi ce li stiamo mangiando Sostanzialmente Qua tiriamo un pugno Col warp E radiamo al suore Non ci interessa Razia No Io direi che lo occupiamo Facciamo più soldi Si incazzano Per la conquista E instabilità Potrei razziare Basta Ma in questo momento Non mi interessa Occupa l'insediamento Aumento il livello Allora Se ho capito bene A parte che ora Non ci conviene farlo Evidentemente Ma Potremmo Potremmo Direttamente Arrivare Con l'insediamento Di livello 2 Ci dipende Quanto vogliamo Scavare Io starei Comunque A livello 0 Insomma Andiamo se Cambio il tooltip Non cambio il tooltip Occupo e basta Molto bene Provincia messa Sicuro Ok Quindi possiamo Attivare Il Questo Molto bene Allora Questo Abbassare Abbassare la pressione Fiscale Non mi sembra Il caso Ma aumenta Il cio prodotto E non ci serve Aumenta la corruzione Scaven Per ora Lasciamola tranquilla Costi di reclutamento Meno 5% Ora posso reclutare Potrebbe essere Già Assolutamente Positivo Bene Tanto vediamo Le strutture Che c'hai tu Allora Tu hai questa struttura Ecco Forse Già ho fatto una cavolata Quindi non facciamo più questa Ce ne sono due Quindi non ha senso E soprattutto Tu a livello 3 Ci puoi arrivare Quindi fare questa struttura Nella capitale Effettivamente È una cosa molto Idiota Quindi la sistemiamo E la possiamo Distruggere da qua Ho sprecato soldi Così va bene lo stesso Posso potenziare questo Che aumenta gli introiti Aumenta la crescita Aumenta il cibo Secondo me È abbastanza interessante Spenderei i nostri soldi qui Quindi diciamo Che non ho sprecati mille Così Ora posso reclutare Gente nuova Anche se ho messo il tizio In demolizione Sì Quindi lo facciamo E visto che voglio reclutare Magari è già il caso Di mettere questo editto qua Ok L'ordine pubblico L'integrità Per ora non ci interessa Costi di costruzione Meno 10% Anche questo forse Però No Al prossimo turno Ora reclutiamo Che di sicuro È più importante Perfetto Posso già andare Da questa parte Adesso Mi sembra che io Proprio non possa Commerciare Però con questi Ho Ecco una cosa Che non mi piace E che hanno messo Cioè hanno tolto La possibilità Di cliccare su qui Nell'uno Potevo farlo Adesso invece Devo cercarlo Per forza qua Che Che balle Comunque Con questi Non siamo messi Troppo male Stiamo migliorando La versione Abbiamo dei trattati Con la zanna rossa A noi Ho un patto Di non aggressione A quanto pare Ok Potremmo andare A espanderci Ai danni Di questi vampiri Inizialmente Però Per ora Va bene così Abbiamo già Un patto Di non aggressione Però possiamo Commerciare Non è vero Che non possiamo Allora Proviamoci Partecipa Dov'è Forse Forse Non possiamo E basta No possiamo Mi da Previsto Cose Eccolo qua Il primo Idiota Proviamo Accettato Bene Non posso Commerciare Con altri Per ora Io mi tengo Buono Sti vampiri Tanto noi Siamo Assolutamente Cioè per noi Non conta nulla Avere la corruzione Vampirica Cioè non ci interessa Davvero niente Questa qua è quella Skaven E per ora è bassa E lasciamola così Qua sta salendo Ovviamente Ma pazienza Mentre quella Vampirica Da noi Non c'è Cioè non Travalica Le cose Qua c'è il deserto Dei morti E anche qua Ci sono loro Quindi per ora Non ce ne frega Assolutamente nulla Direi Che possiamo Tranquillamente Vivere a fianco I nostri amici Allora Non ho ancora Verificato qua Cosa c'è Però di certo Questa è un'abilità Che voglio utilizzare Con tutti Quindi andiamo Di sicuro Su tracciatore Però Se voi avete Consigli da darmi Su cosa utilizzare Non Tiratevi indietro Insomma Sono bramoso Di vostri consigli Ragazzi Da ogni punto di vista Non abbiamo Niente da dargli Quindi va bene Allora Avendo attaccato I nani E i pelle verde Questa verità Forse sale Non lo sappiamo Ora lui sta reclutando Potrei reclutare Un altro lord E Potrei reclutare Un altro lord Effettivamente Però L'editto Si attiva Fra un turno È già attivo Capacità di reclutamento Più uno Ok E perché Non posso reclutare Una persona in più C'è sempre tre Vabbè Comunque Facciamo che Prendiamo dei Ratti dei clan Lanceri E ancora Un rato Del clan Normale Questi qua Non ci interessano Va bene Abbiamo fatto Tutto quello Che si poteva fare Andiamo al prossimo turno Forse se non avessi Costruito qua Quella struttura inutile Sarebbe stato meglio Ma Va bene lo stesso Qua mandiamo La velocità Più alta possibile L'evisato di oggi Non sarà lunghissimo Perché se no Non riesco a pubblicarlo In tempo Solo per questo Francamente I prossimi Penso li faremo Intorno ai 30-35 minuti Dipende dalle battaglie Perché come Mi avete detto voi Probabilmente dovrò Combatterle tutte io E quindi Per andare avanti Nella campagna Ci toccherà Muoverci in questa maniera Allora tu Ti muovi In questo punto E qua A questo punto Possiamo fare Questa struttura O andare qua Che era la nostra idea Originaria Per aumentare Gli introiti Io farei questo Torni sul plus Uno solo Quindi appena è possibile Facciamo questo qua Di livello 3 Beh a parte che no Serve più tempo Però già sarei Più velocemente adesso Quindi È una cosa che ci sta Vediamo se ora posso Reclutare 4 E ora me ne fai Reclutare 4 Allora Arriviamo velocemente Al massimo Perfetto Continuo a fare Sia un po' di lanceri Che No Perché comunque Gli orchi ragazzi Hanno un pochino Di Di corazza Non tanto Ma è un pochino L'hanno Mentre gli altri Non sappiamo Però per ora Va bene così Potrei Quanto posso Reclutare tutta sta gente Un cacchio C'è davvero poco Potrei effettivamente Farmi un nuovo eroe C'è un nuovo tizio Allora noi abbiamo Il problema Che questi qua Saranno poco fedeli Se ho capito bene Quindi è meglio Prendere i signori Della guerra Forza dell'arma 5% Bonus Carica Questo qua Invece permette Attacchi benefici Possibilità di successo Sull'imboscata 10% Lui mi convince Un po' di più Anche perché è più fedele Poi abbiamo Un 7-2 Questo qua Della rovina Disciplina Attributo Immuno Alla psicologia Possibilità di successo Nell'imboscata 20% Questo qua Non è male Peccato che sia poco fedele Come faccio a aumentare La sua fedeltà Tra l'altro Non so se prendermi Uno uguale a Quirk A Quic Non so perché Continuo a metterci la R O uno Cioè insomma O un generale Che picchia e basta O uno che può fare le magie Se dovessi sceglierne uno Potrei prendere questo Stime a costo di aumento Di esercito 600 Però ci rimane No Per ora Cerchiamo di guadagnare Un pochino di più Tanto qua L'ordine pubblico Sta scendendo Quindi magari Come una delle prossime strutture Potremmo farne una differente Allora Intanto qua saliamo già a 18 Quindi l'editto Possiamo cambiare E come è ditto Metterei costi di costruzione E' vero che Stiamo già costruendo Ma al prossimo turno Vorrei costruire questo qua A livello 3 Che costa un bel po' Quindi cerchiamo di risparmiare Da quel punto di vista lì Non possiamo fare ancora altro Quindi muoviamoci Adesso non so se questo Indicatore qua Di Karak Degli 8 picchi Aumenta il suo malus Nel tempo Probabilmente si Quindi dobbiamo anche muoverci Per conquistarla Però per ora Cerchiamo di Conquistare le montagne In questa zona E creare un po' la base Del nostro esercito Insomma Del nostro impero Allora Corruzione da Per ora 7 Quindi per ora Abbiamo più 7 Rito sbloccato Complotto Principale What? Possiamo compiere un rito Ok Durata e effetti Crescita Ordine pubblico Costi di reclutamento Meno 25% Per 3000 Mi sembra che Non ne valga la pena Ora come ora Poi magari mi sbaglio io Allora voi Siete questo Avete poca roba Poi ce ne sono 4 E questi Non sono pochi Però Penso che ora Proverò ad attaccare Penso di sì Allora invece A livello di strutture Tra 5 turni Possiamo potenziare quello Per ora magari Possiamo potenziare questo Questo qua Dovrebbe darmi Più soldi Però non vedo Un aumento qua Di introiti Allora Tass Commercio 1080 822 Da qua E praticamente abbiamo Lui Che mi da 100 E questo qua Che mi da 300 Quindi 400 Ho aumentato Del 60% È un po' strano Vediamo un po' Sì dai Attacchiamo Non saranno pochi Questi Ah non posso Attaccare adesso Bene Allora fermiamoci qua Non è neanche questo Il turno in cui posso costruire Quindi effettivamente Qua è meglio aumentare La pressione fiscale Basta Ordino pubblico più 2 Integrità Non c'è quello che aumenta La pressione fiscale Questo qua L'abbassa A costi di reclutamento Ordino pubblico Integrità Però aumenta la crescita No va bene Lasciamo questo Comenta la crescita Dai Vediamo un po' Che succede Soprattutto questi Si dovranno muovere Ci siamo lì vicino La cosa è che Se ci attaccano Magari io scappo pure Così loro si allontano Dalla guarnigione Attacco loro Senza i rinforzi Dalla guarnigione Dopodiché Potrò attaccare appunto Anche la città Senza i due eserciti davanti Sembra che sia toccato A loro e non abbiano fatto nulla Se non che abbiano Continuato a reclutare Infatti è così Va bene Attacchiamo Io ho fatto un'imboscata Come è possibile I don't know Comunque il cibo ora 63 E non sto aumentando Vorrei aumentare Mantenimento Mantenimento I sediamenti Ok Edifici 3 Qual è l'edificio Che mi da cibo Forse è quello del clan O in centricità Non lo so Comunque Questa qua Magari la possiamo Che non combattere Dai Non abbiamo perso Praticamente nessuno Integrità Disciplina E aumenta il cibo Ottenuto Riduci in schiavitù Tesoreria Per aumentare un po' I soldi No Beh i soldi ci sono Va bene Quick sta aumentando Anche tantissimo La sua No lui dice Quick Quindi Facciamo questo Aumentiamo la disciplina Eh Io attaccarei ancora Però a questo punto Potenziamo lui E aumentiamo il raggio Di disciplina Perché la disciplina Sarà molto importante Per noi Questo qua Ha sempre lo stesso obiettivo Ok Allora ci sarà da combattere Anche questa battaglia Ragazzi Però lo vediamo Nel prossimo episodio Spero che questo Primo episodio Vi sia piaciuto Se così Fatemelo sapere Con un piace O con un commento Ricordatevi ragazzi Vi lascio un bel mi piace Per sostenere Sire a serie Che il canale E siamo già Di fronte A delle unità Bastante interessanti Quindi vediamo un po' Come va a finire Ci vediamo appunto Nel prossimo GG a tutti